Allora, lei mi può raccontare due parole su questa bici dentro da con me? Questa bici quanto costa e cosa è? Una bicicletta Lightway Gold Edition, una bicicletta dove ci sono 24 esemplari in tutto il mondo, questa è la numero 13, una bicicletta che costa 25.000 euro e ne sono state vendute due in Francia, in tutta la Francia. E' fabbricata da Lightway? Sì, è Lightway la produttrice e la fabbricata. Perché non è lo stand Officine Mattio? Perché Officine Mattio è partner di Lightway nell'abbinare i prodotti Lightway ai suoi telai. Quindi noi presentiamo delle officine Mattio con le ruote Lightway, con i componenti Lightway e Lightway ci ha chiesto di partecipare al Light Bike Show consegnando la bicicletta a un cliente speciale. Abbiamo dato naturalmente la possibilità ed è stato a parlare di questa. E allora la Officine Mattio dove è basata? A Cuneo, in provincia di Cuneo, quindi molto vicino alla Francia. Ma anche un paese dove ci sono abbastanza... Dove ci sono le più grandi salite, quindi la bella cosa è che tanti clienti vengono un po' da tutto il mondo a acquistare l'Officine Mattio a pedalarle le nostre salite. Voi le utilizzate anche queste bici? Sì, le utilizziamo. Allora devono essere molto pratiche... Pratiche e performanti, quindi sono concetti di alta gamma, sono biciclette fashion, molto di moda, ma che possono essere utilizzate e devono essere utilizzate. Ma questo è oro o c'è oro in questa bici? La painture, la verniciatura è oro. Ok, è al numero 13 sull'Officine Mattio. Sì, al numero 13. Esatto. Grazie mille. Di niente. Buonanee. Buonanee.